Ciao ragazzi, nuovissimo video unboxing e poi qui c'è una busta di Bruno Eronix dove prenderemo soltanto una cosa e dopo andremo a unboxare una cosa, non so se un po' si entra visto, un cavo Ethernet, un altro cavo Ethernet e un altro cavo Ethernet. Questi dove li andremo a collegare perché siccome c'è stata la nuova arrivata, la nostra bellissima PS4, praticamente ogni volta che dovrei usare uno più console tipo Xbox 360, PS3, dovrei andare ad attaccare e staccare quel cavolo di Ethernet e non mi piace, la cosa non mi piace tantissimo. Perciò, che cosa combina per voi il grande Ethernet? Ma semplicemente questo ragazzi, un tip link e uno splitter della tip link, se sentite il rumore è il cinci là, l'ho comprato per farmi compagnia qui nella mia stanzetta adebica, come dicono alcuni youtuber, la mia stanzettina, c'è Peppe di là. Sappiamo se possiamo buttare un filo e che dobbiamo fare a tre corsi, altre cose, altre cose, allora, praticamente siamo riusciti a spacchettarlo il nostro pipoli. Tip link. Alimentatore di rete. Alimentatore di rete. Abbiamo qui pagato 10€ a lauscia. Questo è il nostro tip link simpatico piccolino con spia di accensione. tutto. Stop. Non c'è più. Nulla. È un simpaticissimo tip link solo per collegare più device in una rete. Wow. in una rete di casa fissa. Ok ragazzi, perciò, attaccherò, vi farò sapere com'è, domandatelo nei commenti, casomai rispondo come mi sta andando sto tip link. Comunque poi ragazzi, poi gli altri video li vediamo nel prossimo canale. Ciao a tutti, bellacci, al prossimo video. Ciao a tutti.